Il nostro ruolo è quello di portare un contributo delle competenze del perito agrario che riguarda i fabbricati rurali, le abitazioni e i servizi. In questo momento oggi l'importanza è di verificare quanto è sostenibile poter ricostruire mantenendo delle linee storiche, conservative, ma anche di trovare quel punto di equilibrio perché anche l'impresa agricola che è comunque in attività deve trovare nei fabbricati dei riscontri operativi moderni, quindi si deve aggiornare. Quindi occorre che le normative tengono conto delle necessità dell'impresa. Noi ci siamo anche attivati per cercare nuovi materiali che il mondo agricolo produttivo potrebbe fornire al mondo di trasformazione dei manufatti per uso, in questo caso, edilizio e quindi c'è tutto un mondo che si sta muovendo e siamo nella corrente dell'innovazione oltre che del sostenibile.